Un museo dedicato all'acqua di Cologna. Il prossimo 24 marzo verrà inaugurato ufficialmente a Santa Maria Maggiore la casa del profumo Feminis Farina. Il polo museale era già stato aperto parzialmente nel 2016 con l'Info Point e il Giardino degli Aromi al piano terra. Ora, grazie al completamento dei lavori di allestimento anche del piano superiore, il museo è finalmente pronto ad entrare in funzione pieno regime. Tra multimedialità e percorsi sensoriali sarà uno dei fiori all'occhiello dell'offerta culturale del Piemonte, spiegano con orgoglio la comune di Santa Maria Maggiore. Un percorso dentro le vicende, gli aneddoti, le sensazioni, le affinità e le corrispondenze dell'immigrazione vigiazzina già narrata nei due musei del paese. Quello dedicato allo spazzacamino e la scuola di belle arti Rossetti Valentini. Un museo che vuole essere un tributo a due vigiazzini illustri, Giovanni Paolo Feminis e Giovanni Maria Farina. Il primo originario di Crana, una delle frazioni di Santa Maria Maggiore, ed emigrato in Germania, fu l'inventore dell'acqua di Colonia. Alla sua morte il segreto di fabbricazione dell'essenza profumata nota in tutto il mondo passò ad un parente, Giovanni Maria Farina di Santa Maria Maggiore, sotto il cui nome fu fondata la casa produttrice dell'acqua di Colonia. Il museo verrà inaugurato come si ricordava sabato 24 marzo. Intanto dal comune di Santa Maria Maggiore fanno sapere di essere alla ricerca di personale per la futura gestione del museo. Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente in municipio. grazie a tutti.